Anche a lei ha fatto la grazia a Sant'Anna, sì? Eh sì, Sant'Anna mi ha fatto la grazia a me, non solo Sant'Anna, padre e figlia, la Madonna di Montevicino, padre Francesco mi hanno dato una mano e mi hanno fatto bene, sta bene, io prego per loro. Perché ha perso la voce, che problema ha avuto? Io ho putto il tumore alla gola, c'è il vuotamento totale, però riesco a parlare col microfono e con la faccia dell'abitettino. C'era anche Giuseppe, stamani di buon'ora ringraziare Sant'Anna per essere guarito da un brutto male. Gremita la chiesa del rifugio in Piazza del Popolo, dove è stata celebrata la messa in onore di Sant'Anna e San Gioacchino. Ieri la benedizione delle partorienti, un bagno di folla per la santa, accolto con soddisfazione da Don Enzo De Stefano. Questo giorno è molto importante, almeno questa zona di Avellino, dove è collocata questa chiesa, è dedicata a Santa Maria del Rifugio, che ospita la chiesa di Sant'Anna. Vorrei precisarlo, anche se molti dicono la chiesa di Sant'Anna, ma la Sant'Anna è ospita soltanto. Detto questo, sono contento della partecipazione della gente che c'è stata già in risera stamattina. In risera sono stato pieno di gioia quando vi sono tante mamme giovani che hanno sentito i bisogni a ringraziare per il dono della maternità, che certamente è una cosa sempre molto bella e significativa anche nei nostri tempi, ancora di più, potremmo dire. E oggi celebramo la festa di questa grande padrona, Sant'Anna, che per noi Avellino non è soltanto il giorno di Sant'Anna, ma anche il giorno in cui annunciamo la festa dell'Assunta, di Maria Assunta, cioè della figlia, potremmo dire. Quindi è bello tenere sempre questo collegamento tra la madre e la figlia. E il collegamento avviene tramite l'azzà del pannetto, che questa sella ore 20 ci sarà regolarmente, che annuncia la prossima festa dell'Assunta. Almeno parliamo di quella religiosa, perché quella civile da qualche anno stenda a decollare o a rivivere, insomma.